salutiamo subito e diciamo grazie per il tempo che ci dedica viviana greco ben trovata ben arrivata padre più tv grazie grazie dell'invito sono tanto contenta di essere qui è la città di padre pio san giovanni rotondo qua nella televisione tele radio padre pio grazie dell'invito avete sentito questo bell'accento ispanico anche se viviana parla perfettamente multilingue tra le quali appunto l'italiano lei è nata in argentina entre rios che è in una regione vicina all'uruguay dunque carissima viviana domanda d'obbligo come argentina hai conosciuto papa bergoglio sì certo io l'ho conosciuto in argentina quando era vescovo di buenos aires proprio messi prima di che fosse nominato papa il 12 del 12 del 2012 che è un giorno molto importante che il giorno della madonna di guadalupe alla basilica di guadalupe di buenos aires che c'è sempre una grande festa perché la madonna di guadalupe altra essere la padrona del messico e padrona di tutta l'america tanto importante allora è stata una festa anche con i mariachi insomma con i fiori una festa bellissima e senza sapere poi che pochi mesi dopo la provvidenza lo voleva papa poi l'ho rincontrato a roma già come papa è veramente un orgoglio avere un papa italo argentino e tu oggi non hai solo da metterci in evidenza giustamente mi ricordavi la vergine che protegge tutta l'america latina ma anche oggi è un giorno molto importante per la spagna e anche per tutta l'america perché a parte di essere il columbus day che ho visto che voi avete fatto l'editoriale e la padrona di spagna la virgen del pilar che si trova a saragossa allora oggi è festa in spagna tanto importante perché ci sarà una grande processione a saragossa in altre città proprio un attimo fa vi ho mandato uno scatto dove si vede con grande evidenza proprio quanto intorno al volto della madonna non c'è semplicemente un'aureola ma ci sono dei raggi luminosissimi una storia che ci riporta tra l'altro al grande miracolo di calanda siamo tutti affezionati credo come giornalisti cattolici a vittorio messori che l'ha raccontato appunto io lo cito spesso questo libro sul miracolo di calanda perché è un miracolo particolarmente eclatante diciamo per i dubbiosi sì come tutti i miracoli no qua vediamo la madonna con i raggi come il sole e allora sì io sono molto devota alla madonna del pilar perché comunque ho vissuto in spagna per molti tempi anche fino adesso continuo a lavorare per la spagna per clic radio televisione e ho fatto un programma dove lavoravo a madrid insomma ha fatto questo programma che comunque mi ha avvicinato ancora di più ho avuto ancora più fede perché intervistando tanta gente come i carmelitani della università della mistica avila lavoravamo anche con i francescani con tante tante congregazioni e questo mi ha avvicinato tanto ancora di più alla fede che è un percorso no io credo che la fede in ogni persona è un percorso che uno fa io certamente sono andata una scuola cattolica francescana perciò per noi il 4 ottobre ha sempre festa in argentina dove ho studiato l'italiano ma dopo certamente magari all'età dell'adolescenza uno non dico che ha dei dubbi però c'è altre cose per la testa ma giustamente cara Viviana altrimenti sembra proprio che noi stiamo facendo un'intervista solo di un certo tipo invece la tua vita è stata anche ricca perché la natura ti ha dato tanti doni tu a 18 anni facevi la modella sì il mio sogno da piccola era viaggiare io guardavo sempre le mappe volevo conoscere il mondo ho avuto l'opportunità di 18 anni di andare via all'argentina andare a vivere a parigi facendo la modella poi sono arrivata in italia a milano mi sono fermata viaggiando poi passando per gli stati uniti dopo di che ho lavorato tanto però poi mi piaceva tanto la carriera di giornalista e ho studiato e adesso poi lavoro come giornalista e si vede che la provvidenza che mi ha portato in un percorso di anche essere nel mio piccolo evangelizzare attraverso insomma la fede che io credo che sia tanto importante oggi come Tele Radio Padre Pio altri canali che sono importanti per la gente perché comunque è molto importante portare la fede anche con ogni esperienza di ogni ospita credo che questo può arrivare anche a chi non è cattolico e così anche non lasciare tanto spazio magari a altre secta o cartomante che possono essere soprattutto io parlo dell'America Latina dove magari gente che è desperata viene ascoltata anche di gente che le vuole truffare vuole i soldi invece io credo che queste televisioni siano un spazio importante per evangelizzare perché anche una piccola parola può essere importante in un momento di sofferenza di qualche persona che magari è quello che lo trascina anche a scoprire la fede di Dio la fede dei Santi della Madonna questo per me è molto importante Ecco, noi stiamo parlando di un ponte che quest'oggi vogliamo realizzare attraverso tanti luoghi che idealmente ci sono vicini e Viviane è certamente un interprete di questo nostro obiettivo di quest'oggi ma quali sono i tuoi progetti per il futuro e i progetti che stai cercando di realizzare oggi? Oggi sto lavorando appunto per Radio Televisione e poi sto facendo un programma che è di musica perché la musica è anche bella, intervisto gente dell'Argentina che è sparsa per il mondo tutti musicisti, cantanti, soprattutto il tango, che è nostro il tango, il folklore, però soprattutto il tango che sono in giro per il mondo e poi sto convinta a WebTV che è una tv di Napoli che sta crescendo tanto che anche quella tv segue tanto la vita dei Santi, tutte le feste della Madonna e sto facendo un programma in viaggio con vita che è lifestyle, è un stilo di vita dove ho fatto anche qua la represa per il 4 ottobre di tutta la festa di San Francesco ma poi anche facciamo un po' anche i luoghi, facciamo conoscere un po' la gastronomia perché insomma è il stilo di vita, soprattutto in Italia, poi quando andrò all'estero farò anche questo programma e poi ci sono altri progetti ma vediamo la Providenza dove mi porta Tra l'altro proprio la Providenza ti ha fatto conoscere Padre Più per caso quando facevi la modella a Milano C'è un episodio molto particolare che mi ha colpito È vero, è vero, io stavo a Milano, avevo affittato una casa, chi conosce Milano, una fiera e allora stavo sul balcone, erano i primi giorni d'estate perché mi ricordo che era giugno e cade nel balcone una immaginetta del Padre Più, io già lo conoscevo ma non era devota allora chiedo al signore al portinaio, le chiedo guarda è caduta l'immaginetta del Padre Più se la do perché penso che sia di qualche vicino che vive su, di qualche altro balcone e allora la tiene un mese, dopo un mese me la restituisce e mi dice guarda io ho chiesto a tutti i vicini condominiali e nessuno, questa immaginetta non è di nessuno, te la può tenere Quindi è piovuta dal cielo Se qualcuno la reclama io poi la do perché non è mia, c'è caduta e da lì ho capito che c'è che era Padre Più e poi la chiesa di Padre Più che conosce Milano è molto vicina in quella zona Io stavo a 500 metri della chiesa e lì ho scoperto questa devozione per Padre Più che poi ho trasmesso a gente della mia famiglia anche amici, il fatto è che adesso arrivano due amiche mie di Barcellona proprio a San Giovanni Rotondo per la festa dei Santi per conoscere il santuario di Padre Più perché loro non lo conoscevano penso che nel mio piccolo anche parlare di Padre Più poi Padre Più è molto importante anche in Uruguay e in Argentina perché in Uruguay c'è un santuario importante a Salto dove anche Padre Più è apparso in bilocazione al Monsignore Damiani e lì hanno fatto dove la gente parla di tante guarigioni, tanta gente che va in preghiera se fanno anche la festa di Padre Più non soltanto il 23 ottobre, settembre scorsa ma anche il 25 maggio che è il suo compleanno Un'ultima domanda perché abbiamo ancora qualche minuto a nostra disposizione perché tra l'altro la data odierna ci riporta ad un'altra figura alla quale sei sicuramente legata parliamo di Carlo Acutis nel giorno della sua memoria liturgica Certo, Carlo Acuti, un gran beato che io spero che diventi santo il beato Carlo Acuti io ho portato la seconda reliquia in Argentina del primo grado la chiesa di Paranà, del Santo Domenico Savio ho portato la seconda reliquia, poi ho conosciuto la mamma, adesso sono stata da Sisi poi c'è un progetto anche con il regista e la moglie Paloma Zavala e José Maria Zavala che hanno fatto adesso il secondo film sul beato Carlo Acuti che si chiama Il battito del cuore, il latito del cuore il primo, il cielo non può sperare, il paradiso non può attendere e che è stato presentato proprio alla giornata mondiale della gioventù a Lisbona perché credo che sia un santo di oggi, un santo per i ragazzi io parlo con tante persone che mi mandano i messaggi dell'Argentina soprattutto dove ho portato la reliquia tante nonna che comunque parlano di che i nipoti si avvicinano perché vedono questo beato, questo santo di questi tempi vestiti con jeans, vestiti tutto sportivo allora poi lo chiamano l'influencer di Dio perché lui comunque comunicava attraverso internet, attraverso i social perciò credo, io ho visto anche ad Assisi nel Santorio dell'Espogliazione dove lui è ho visto dei ragazzi giovenissimi, anche adolescenti piangere davanti a Carlo Acuti perché lo sentono vicino, sentono la vicinanza perché lo vedono che è un ragazzo moderno come loro e questo credo che è sempre Dio la provvidenza che ci manda questi testimoni, questi santi anche per avvicinare tanti giovani Cara Viviana, allora possiamo dire che nonostante in America qualcuno ce l'abbia con Cristoforo Colombo hanno anche sfregiato le sue statue alcuni appunto per la famosa cancel culture vorrebbero condannare addirittura questa figura di italiano che per noi è straordinario mi sembra di capire che oggi è un Columbus Day per il quale anche tu ringrazzi io ringrazio ovviamente io ringrazio che è stata così la storia poi voglio dire c'è sempre gente che non è d'accordo ma io credo che gli errori devono servire per per non commettere più questi errori ma per me è stata una giornata bellissima sempre 1492 e credo che tutto quello che è successo i popoli originari devono unirsi a tutto il mondo occidentale per arricchirsi come dice anche il Papa Francesco creare ponti e non muri e perciò la storia secondo me dell'America non sappiamo come sarebbe stata ma oggi è un giorno di festa in America credo che questi siano gruppi minore non quelli che fanno queste cose insomma benissimo veramente un bel incontro quello che abbiamo svolto questa mattina grazie alla presenza di Viviana Greco che ringraziamo ecco per averci fatto visita che speriamo di ritrovare presto tra noi grazie grazie a voi grazie a tutti e benedizione grazie ancora buon soggiorno a San Giovanni Rotondo a Viviana Greco grazie ci fermiamo per qualche minuto poi di nuovo insieme grazie a tutti